Ben ritrovati, seconda parte con la nostra rassegna stampa, i quotidiani sportivi. Apriamo con i nazionali la Gazzetta dello Sport che titola Icardi, papà non se ne va. Il caso dell'estate dopo la chiusura totale dell'Inter ha deciso, Maurito vuole restare per motivi familiari, voci insistenti di una nuova gravidanza di Wanda. Adesso Dzeko mette fretta al centrocampo, Riecco Rakitic, grana infortuni, Godin si ferma, salta all'inizio del campionato. E poi a centropagina Fischia a Stéphanie, il tabù infranto in Supercoppa Europea, presto anche in Champions. La francese Fraparte, 35 anni, arbitrerà Liverpool e Chelsea, la prima volta di una donna, il caccio abbatte un altro muro, scrive nel suo editoriale Sebastiano Vernazza. E poi la Juve in pressing di Bala resiste, Lukaku in attesa, Paolo si allena da solo a casa ma non dice sia il trasferimento che dovrebbe avere la via libera, che darebbe la via libera al Belga. E poi Dida da Duarte a Paquetà, Milan fidati dei brasiliani, a Cardiff super testa per i rossoneri contro lo United, alle 18.30 c'è l'intervista all'ex portiere rossonero. Tra Balotelli e il Verona c'è la rivalità con il Brescia, nodo di ingaggio non solo, poi dunque i temi di mercato che continuano a tenere banco. All'interno della gazzetta andiamo a recuperare il punto sulla sfida amichevole dei bianconeri di Mr. Turo contro il Begiktas. Ecco l'Udinese in crescita, il modulo è ok. Pofanà e Pussetto dietro Lasagna, unica punta, il 3-4-2-1 funziona, vittoria meritata contro i Turchi. 0-2 il risultato finale nella sfida giocata a Gröding con le marcature appunto di Lasagna e Pussetto. Allora andiamo a rivedere i gol della sfida di ieri nella sintesi della nostra redazione sportiva. Buonasera amici sportivi, tifosi bianconeri, ultima amichevole dell'Udinese in terra straniera, poi la squadra tornerà in sede. E' lungo in area di rigore, attenzione lo controlla bene Boyd, se la porta sul sinistro, arriva la chiusura di Samir. Voglio dire che era tutto solo, potremmo fare davvero poco in questo caso dall'Argentino. Carius stava per riproporre la stessa stupidaggine della Champions League. Inizio di ripresa da parte del Besiktas che ha dovuto però già effettuare un'altra sostituzione. Ma attenzione adesso all'Udinese che va in vantaggio con Kevin Lasagna. Preso completamente contro tempo Domagoi, Vida, ma bravissimo Kevin Lasagna per due motivi. Uno per l'ottimo aggancio con il piede Mancino. Vida è andato completamente fuori strada anche per lo stop di Lasagna. E poi Vida che sbaglia ancora e mette in moto Lasagna che può andare verso la porta. Ancora Lasagna, palla per Pussetto. Il 2-0 in contropiede l'Udinese raddoppia. Ancora un errore di Vida, questa volta molto più grave del precedente. Maurizio ha regalato palla a Lasagna che l'ha giocata benissimo perché poteva andare anche da solo verso la porta. Per un attimo l'ha fatto, poi ha preferito scaricare sul compagno libero a destra e quindi poteva scegliere destra o sinistra. Ha scelto la destra, ha scelto bene perché Pussetto è arrivato e con il destro davanti a Carius. Non ha sbagliato. Udinese 2-0, si distende Pezzella, riceve il pallone da Fofana, alza la testa, Pezzella parte il traversone. Nesto Roschi entra e segna, toccando il primo pallone della partita. Però l'arbitro annulla su segnalazione del suo collaboratore. Adesso Nesto Roschi in aria, Maurizio Balic, il destro di Balic, palla sul palo. Che sfortuna poteva essere il 3-0 e sarebbe stato importante anche per Balic. La partita finisce qui. Le reti di Kevin Lasagna e di Pussetto regalano all'Udinese la prima vittoria nel precampionato alla quarta partita amichevole. Si chiude quindi benissimo questa fase di ritiro in Austria. Queste dunque le immagini con la sintesi della vittoria di ieri contro il Besiktas. Ricordiamo che oggi la squadra ritornerà in città e ci sarà poi nel pomeriggio la sfida a Manzano contro il Tierlins e Muzzane. Che vi trasmetteremo in diretta a partire dalle 17.30 con il pre-partita. Andiamo sul Corriere dello Sport e l'apertura. Mai una gioia ai tormenti di Dybala. Di nuovo Del Piero ha scaricato la trattativa per lo scambio con Lukaku. Segna uno stallo, la Juve aspetta il Sidi Paolo che lunedì torna ad allenarsi con Sari. Decisiva la scadenza dell'8 agosto. Cancelo per Danilo si va avanti la differenza di 10 milioni di taglio alto. Euro Supercoppa, fischia una donna e rivoluzione UEFA. Liverpool Chelsea verrà arbitrata dalla francese Frapar, Rossetti e Grande se lo merita. Zaniolo giura fedeltà alla Roma per sempre. Il talento giallorosso si confessa. Voglio mettere questa squadra al centro di tutto come mi ha insegnato De Rossi. E poi Fonseca in Francia fa l'esame con il Lilla. Il Milan, Piontex, Suso al test dello United. La Lazio corre a show, strega anche gli inglesi. Cavani gela l'Inter e si ferma Godin. L'attaccante resta al PSG fino al termine del contratto. Domani Lautaro con il Tottenham. Conte perde il difensore per un mese. Il terzo capo muscolare dopo quelli di Politano e Lazaro. Una riforma da cambiare. L'appello lanciato al Parlamento e dal Consiglio Nazionale del CONI. Il contratto con Sport e Salute c'è il sì. Ferrari male con la pioggia, l'Ungheria. La prima giornata di prove davanti con la Red Bull e Vestappen. Leclerc solo settimo. Quartaro è un Siluro MotoGP a Brno. Il francese vola nella seconda sessione davanti a Marquez. Rossi nono rompe il motore. Andiamo sulla prima pagina del Tutto Sport con anche in questo caso Di Bala protagonista l'effetto domino. I destini di Lukaku, Manzuki, Cigueine e Carli legati all'ok dell'attaccante argentino al Manchester United. Della Juve aspetta. Intanto continua a trattare con il City lo scambio tra Cancelo e Danilo. E poi di taglio alto con Zazza Belotti serve un Claudio Sala. I nuovi gemelli del Toro continuano a dare spettacolo in Europa. L'intesa funziona e i gol arrivano puntuali. Ora tocca a Cairo regalare a Mazzari un giocatore di qualità per esaltare le loro caratteristiche. Verdi può essere l'uomo giusto imminente il via libera del Napoli. All'arma Inter si ferma Godin a terzo capo muscolare dopo Politano e Lazzaro. E poi Balotelli. Ora ci prova il Verona. Il Verona Super Mario cerca squadra. Storico donna arbitro in Supercoppa dirigerà Liverpool Chelsea. di taglio basso, Ducati con nuove ali, Dovizioso Cicrede, MotoGP della Repubblica Ceca. Mentre la volley femminile l'Italia comincia bene la marcia verso Tokyo. 3-0 al Kenya nel percorso di qualificazione olimpica. Torniamo ai temi legati all'Udinese con la prima pagina del Messaggero Veneto che andiamo a recuperare per quanto riguarda il dorso sportivo dedicato proprio alla vittoria dei bianconeri contro il Begiktas. 2-0 il risultato finale. Abbiamo visto le immagini. Lasagna Pussetto, l'Udinese Piazza, il primo acuto estivo. Va tutto al Begiktas nella ripresa con i gol dei due attaccanti. L'altro test con il Chialins Muzzane. Chi sale e chi scende, secondo il Messaggero, c'è Lasagna che comincia facendosi pescare tre volte in fuorigioco poi si sblocca nella ripresa quando sfrutta al meglio l'assist di Iaialo. Mandragora, il più continuo in mezzo al campo per intensità e capacità di tenere la testa dentro la partita. Tudor lo piazza mezzala destra, una handicap per un mancino come lui, ma il napoletano sbaglia poco e niente. Poi positivo anche il giudizio su Iaialo, stavolta non ha di fronte a sei trequartisti della Borussia che gli fanno girare la testa, si gioca a ritmi più bassi, l'ex palermitano fa valere la sua esperienza. In negativo invece Fofanà, impiegato nel ruolo in cui ha espresso il suo meglio a Udine, quello di mezzala sinistra, tradisce ancora una volta le attese. Andiamo ad ascoltare le voci della sfida del post partita. Partiamo con Mr. Tudor. Una settimana in più di lavoro e abbiamo visto tutto un altro dinese. Quanto sei soddisfatto? Perché oggi si giocava contro una squadra forte, un test importante. Come abbiamo detto che quando si è perso sono partite ancora di luglio e d'agosto. Certo non ci si può esaltare stasera, però i progressi e i passi in avanti sono molto evidenti. Sì, ho visto cose migliorate, infatti ho fatto complimenti ai ragazzi. Ancora la strada è lunga, però come ho detto prima il risultato è veramente secondissimo piano, però le robe che facciamo è giusto vederle. Poi con più freschezza e più le partite nelle gambe si vedranno sempre di più. E poi alzando anche condizione si perderanno anche meno palle, perché dobbiamo crescere da quel punto di vista. Perché quando metti anche tanta pressione, tanta corsa, poi quando c'è il pallone fai fatica. Però bisogna lavorare e crescere ancora. Ecco, è chiaro che conta il lavoro, conta la prestazione, ma quanto si avvicina all'Udinese di questa sera a quella che vorresti vedere? Perché in difesa si è rischiato poco, a parte qualche palla persa in uscita come dicevi tu. In attacco c'è stata anche una squadra aggressiva che li è andata a prendere, anche attaccandoli. Questa è una cosa che a te piace tanto? Sì, sì, ma era quella idea e come ho detto già contro Dortmund eravamo belli compatti, però eravamo troppo passivi. Volevamo essere un po' più vogliosi, più orientati verso loro porta con le corse. E l'avevamo fatta, come dico bisogna vedere, mancano ancora tre settimane fino a Coppa, bisogna crescere ancora e essere pronti quando sarà bisogno. Ecco, allora a tal proposito un bilancio di queste settimane di lavoro anche qui in Austria, un bilancio di fine ritiro visto che manca ancora un po' la prima partita? No, abbiamo lavorato tanto, come lavoreremo ancora queste tre settimane e io voglio dire come lavoreremo tutto l'anno. Perché come abbiamo già parlato, io non credo a una preparazione fatta e poi bisogna lavorare tutto l'anno forte e giusto. Questo dunque mister Tudor, stavolta ho visto cose che proviamo in allenamento, ha dichiarato appunto il mister, l'avete ascoltato. Sì, e continua a parlare tra l'altro poi di mercato, ne parleremo tra poco. Andiamo a vedere anche le altre dichiarazioni, quelle del capitano Kevin Lasagna, cancellato il brutto KO contro il Borussia. Allora andiamo ad ascoltare la voce anche di Kevin Lasagna, autore della prima marcatura bianconera. Una partita, una prestazione molto convincente, una grande risposta ed è un segnale che con una settimana intera e lavoro in più è un'altra ordinese. Sì, l'importante esatto era cambiare perché dopo la brutta sconfitta col Dortmund, non tanto perché comunque le qualità erano veramente alte dell'altra squadra ma sotto il nostro aspetto. eravamo stati poco aggressivi, cosa che chiedeva il mister. Questa settimana ci abbiamo lavorato duramente e oggi abbiamo fatto molto meglio. Ecco, da parte tua è arrivato anche il gol, una bella soddisfazione anche personale dai, perché il gol in questo amichevole di prestigio, la prima firma è stata la tua, quella che ha sbloccato la partita e non ti sei fermato perché hai trovato anche un grande assist per Pussetto e hai rischiato di trovarne un altro ancora, dunque gran partita per te. Sì, oggi stavo bene fisicamente, comunque le gambe cominciano ad andare sia le mie che quelle dei miei compagni, il lavoro comincia ad essere smaltito e quindi siamo pronti per la Coppa Italia. Ecco, da capitano, un bilancio alla fine di questo ritiro, sono state settimane intense prima Udine e poi questi 12 giorni qui in Austria. Che Udinese ritorna a casa in vista del primo impegno ufficiale in Coppa Italia? No, sono state settimane molto impegnative, abbiamo lavorato veramente duramente e però questo è importante perché comunque durante il campionato sarà lungo e le partite saranno molto intense e quindi il lavoro che abbiamo fatto adesso e a Udine ce lo troveremo nel proseguo del campionato e questa è la cosa più importante. Questo dunque, Kevin, a lasagna, dicevamo del mercato, a centrocampo Wallace in Napoli, sono data la Juve per Pellegrini, questi gli ultimi nomi che circolano, ancora fumata nera invece per Rodrigo De Poli, il calciatore argentino che sta lavorando con lo staff bianconero, sta suscitando l'interesse del Milan. Giovedì sera c'è stato un vertice in casa rosso-nera, l'argentino è stato uno dei profili presi in considerazione assieme a quello di Mattias Zaraco e poi il numero 10 è valutato 40 milioni di euro, cifra sempre molto alta in casa Udinese, però si attende anche di capire chi correrà sulla fascia sinistra dove per ora c'è il solo Pezzella, sempre richiesto dalla Parma, si è fatta strada all'ipotesi del ritorno di Ziegler dal Watford dopo gli ultimi sei mesi della scorsa stagione, ma si parla anche di Luca Pellegrini che Paratici ha scambiato quest'estate con Spinazzola. Andiamo sulle pagine del Gazzettino per continuare a parlare dei colori e bianconeri della sfida di ieri contro i turchi del Besiktas, giocata a Gröding con il titolo della pagina sportiva e l'Udinese inizia a funzionare. Alla quarta amichevole contro il Besiktas, ecco la prima vittoria, la prima prestazione convincente, Pussetto spostato in avanti, dialoga con Lasagna e insieme firmano i due gol che stendono i turchi. Le dichiarazioni della post partita, abbiamo sentito quelle di Kevin Lasagna, le gambe iniziano a funzionare dopo tanto lavoro, contento anche Tudor. Li voglio sempre aggressivi. Andiamo ad ascoltare anche le parole di Nacio Pussetto, autore della seconda marcatura bianconera. Nacio, una bella Udinese, una grande partita contro un avversario forte, è un segnale chiaro che dopo due settimane di lavoro si iniziano a vedere i primi frutti. Sì, contento, credo che oggi abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo misurato e credo che questa è la strada, dobbiamo ancora continuare a lavorare ma credo che questa è la strada. Ecco, poi per te è arrivata anche una bellissima soddisfazione, quella del gol, nel primo tempo ne hai sfiorato un altro, insomma sei stato un grande protagonista, chiaro segnale che anche per te le gambe iniziano a girare bene. Sì, sì, sono contento perché un attaccante deve fare gol e io l'ho fatto oggi, ringrazio a tutte le squadre per il lavoro, ma so che devo lavorare ancora, devo migliorare tantissimo per arrivare bene all'inizio del campionato. Ecco, grande sacrificio da parte tua, nelle prime partite hai anche giocato un po' più dietro, oggi più vicino alla porta, ti metti veramente sempre a disposizione in qualsiasi cosa il mister ti chiede? Sì, io devo essere a disposizione del mister, il mister sa che mi piace giocare un po' più avanti, ma se lui ha bisogno che io devo giocare nella faccia, lo faccio, ma credo che tutti stiamo facendo un gran lavoro. Torniamo sul gazzettino per il punto mercato, la Fiorentina con Predest inserisce per Zigelar queste le voci raccolte da Stefano Giovampietro, slitta rientro per l'olandese, altro giocatore apprezzato da Predest, valutando un possibile inserimento della Fiorentina. E si parla ancora poi dell'interesse della Lazio per Bram Neutting, con i bianconcelesti interessati anche a secco Fufanac, che qualora partisse Wallace nei prossimi giorni si tufferebbero su Kevin Bonifazi del Sassuolo. Infine, della Sverona non ha ancora formalizzato l'ingaggio di Gennaro Tutino, tanto che anche il Frosinone si è inserito nella trattativa, potrebbe farlo anche l'Udinese, che dovrebbe cedere alla richiesta del Napoli del prestito secco non amata da Gino Pozzo. Queste le voci raccolte dal gazzettino per il mercato bianconero. Passiamo a parlare di Pordenone con i ramarri che continuano la preparazione in vista dell'inizio di Coppa Italia contro il Cittadella. Oggi c'è Giaria di Serie B a Tombolo. Nel Padovano i ramari sfidano i Veneti, soltanto Camporese non sarà in campo. La novità ci sarà la VAR che verrà utilizzata anche tra i cadetti. Tessera sicura faremo del nostro meglio. Burrai e Chiaretti avranno più spazio. La primavera di Favaretto invece in Coppa Italia affronterà il Pescara. Ieri infatti sono stati resi noti anche i calendari, il tabellone della Coppa Italia primavera con il Pordenone appunto che sarà impegnato contro il Pescara mentre l'Udinese sfiderà il Frosinone nel primo turno. Il mercato, ultimi giorni i neroverdi per Magnaghi e Perilli. Addio ai due eroi di San Siro. C'erano loro infatti nella sfida al Meazza contro l'Inter e sono diretti verso nuove squadre. Magnaghi è richiesto dalla Terramo di Bruno Tedino e anche dalla Ternana. Mentre per quanto riguarda Perilli c'è la possibilità che ritorni a Livorno che gli garantirebbe la possibilità di ritornare in Serie B. L'altro attaccante Germinale invece è sempre più vicino al Palermo. Questo per quanto riguarda il Pordenone. Sempre dal calcio della destra a tagliamento. L'addio alla prova Viano vittima della crisi. La società giallo-blu non si è iscritta alla terza categoria dopo 90 anni di attività. Ripescaggi salgano Maniago Libero, Unione San Martino, Valerian Pinzano e Sarone Caneva. Il Tamai nel frattempo forte del ripescaggio in Serie D ingaggia l'interista Zuperdoni. Il 18enne esterno è l'ultimo colpo di mercato delle furie. Torniamo alle pagine sportive del Messaggero Veneto per continuare a parlare anche di Pordenone con il punto sui nero-verdi e le possibili formazioni che scenderanno in campo quest'oggi contro il Cittadella. Pordenone alza i vatt, sfida alla Cittadella per valutare meglio la forza del gruppo. Grande curiosità per Tesser. Ho delle buone sensazioni. Occhio agli ex Chiaretti e Strizzolo, ma pure Dio e Pasa. Queste le formazioni dunque. Pordenone potrebbe schierarsi con il 4-3-1-2. Bindi tra i pali, semenzato Stefani, Barison e D'Agostini. Poi Misuraca, Burrai e Pobega. Davanti Strizzolo, Chiaretti e Candellone. Le novità nel club. Roberto Donazzone lascia i ramarri, va alle furie rosse. E poi anche sul Messaggero viene proposto un nuovo colpo del Tamai ingaggiato all'esterno classe 2001 Zuperdoni. Franchi e un sogno chiamato PSG. Il padre premiato il suo impegno si torna sulla notizia dell'acquisto del portiere pordenonese da parte della Paris Saint Germain. Il padre appunto dice è stato premiato il suo impegno. Denis sta vivendo un sogno. Classe 2002 è stato catapultato nel mondo del PSG. E poi per quanto riguarda invece il ciclismo, via al giro della provincia anche le nazionali russe tra le 133 atlete in gara. Domani la bannia clausetto per allievi. Al mattino si assegna il titolo di campione cronometro FWG. Parliamo di ciclismo con il Messaggero oggi che racconta la storia di Cimolai, il corridore friulano oltre il buio. La moglie lo lascia durante il Giro d'Italia. Lui riparte in azzurro. La confessione shock del ciclista di Fontana Fredda fa il giro del web. È stata una botta tremenda. Ora corro l'europeo e sogno il mondiale. Si tratta di una professionista da dieci anni. Quest'anno ha già sul taccuino quattro vittorie. Vi racconto poi il baby Bernal, il nuovo fenomeno del ciclismo. C'è Pellizzotti, Fabro, il re del Tour, il DS della Bahrain Merida. Era il suo capitano Landroni nel 2016. All'esordio tra i pro, il 24enne della Cattuscia, lo ha affrontato più volte in gara. C'è il nuoto con ancora medaglie in Friuli Venezia Giulia. Sono arrivate da Gargani e Buonaguro ai tricolori di categoria. L'Udinese vince 50 a Farfalla Cadetti dopo l'argento dei cento. Il Carnico e il super nei 200 d'orso Juniors. Restivo secondo tra i big. Il basket ora. Andiamo a parlare di Apu GSA con l'Old Wild West che scopre le carte. Tutti i numeri di maglia sono stati resi noti ieri. A due settimane da Raduno, un po' di curiosità per i tifosi. Della rinnovata Apu. Cromer avrà lo 0, Beverly il 18, Fabi il 10, Capitano Cortese abbonato alla 13. E poi c'è Amato con il 6, Penna con l'84, Cortese abbiamo visto il 13, Antonutti il 9, Zilli e Jerkovic. Tutti dunque presenti qui con i numeri sul roster nella grafica creata dalla X-Bless per il roster e i numeri di maglia della prossima stagione. C'è attesa anche per le novità cromatiche della maglia dell'Apu che sarà presentata nei prossimi giorni. La divisa griffata Nike avrà delle novità stilistiche. Per ora top secret verranno svelate il 7 settembre all'Officina dello Sport Terminal Nord alla vigilia della prima casalinga di Cividale contro Ferrara in Supercoppa. Si parla anche di Serie 2 donne con la Delser che si dà appuntamento per il 21 agosto con la Raduno in programma 4 test. Torniamo a parlare di calcio dilettanti. Il Lumignacco trova per ora a casa ma lancia l'allarme sul Vivaio. Il Rossoblu ha ottenuto la gestione temporanea del campo di Pavia di Udine. Niente intesa sui giovani con le altre società del paese. Per una fusione si dicono disponibili. Il progetto unificato con Risanese e Paviese 1,91 godeva già dell'ok del comune. E poi ancora gli allievi. Il sorteggio dei gironi del Rocco all'Udinese con Lazio e Toluca. I bianconeri hanno pescato anche la rappresentativa del Friuli Venezia Giulia. Mentre la new entry Pordenone se la dovrà vedere con il Napoli con il Carte nella Nazionale di Malta. Questa è dunque le notizie per quanto riguarda il calcio giovanile. E prima di salutarci andiamo a dare un'occhiata anche alle notizie che interessano le bocce e il tiro a segno. Friulane tra luci e ombre ma i campionati di società. La degli Acchiesi è un rullo mentre il tiro a segno. Tolmezzo brinda a Bologna. Venturini e oro nella carabina. Questo è il punto per quanto riguarda gli altri sport. Prima di salutarci vi ricordiamo gli appuntamenti di oggi e naturalmente l'informazione vi dà appuntamento alle 13 con tutti gli aggiornamenti di cronaca e di sport. Dalle 17.30 saremo live con il prepartita della sfida amichevole tra Udinese e Tiarlins e Muzzane che si giocherà a Manzano con fischio d'inizio alle ore 18. Tra primo e secondo tempo poi ci saranno gli aggiornamenti di cronaca con il nostro TG Flash. Prima di salutarci come al solito invece ci congediamo con la rubrica accadde oggi a cura di Guido Gomirato. Buona giornata a tutti. L'estate del 2005 è particolare per l'Udinese che è impegnata in una meticolosa preparazione iniziata per tempo per essere al 100% per i play-off di Champions League in programma il 10 e il 18 agosto contro lo Sporting Lisbona. E nel lungo tragitto della preparazione c'è una tappa fondamentale rappresentata da un amichevole di lusso a Liverpool contro l'Everton. L'allenatore che è Cersei Cosmi manda in campo quella che presumibilmente dovrebbe essere la formazione anti-Sporting Lisbona almeno per quanto concerne la gara di andata. Formazione che è priva di Pinzi che è da qualche giorno fuori per infortunio. Quel giorno a Liverpool l'Udinese fa la sua dignitosa figura, dimostra di stare bene sotto tutti i punti di vista ma nel finale ecco che la sfortuna è in agguato. Al minuto 38, quindi ne mancano 7 alla fine, Di Michele subisce un duro, durissimo colpo alla caviglia sinistra. Crac! Rimane fuori per un lungo periodo, deve saltare non solo la gara di andata contro i portoghesi ma anche quella di ritorno. Ma quel che è peggio, il grave infortunio alla caviglia sinistra lo condizionerà anche in campionato. Per la cronaca l'Udinese gioca alla pari sino al finale ma al minuto 44, mancano soltanto due minuti, uno alla fine dei 90 e uno di recupero. Ecco che Davis, l'attaccante dell'Everton, segna di testa, l'Udinese perde 1-0 ma per la squadra di Cosmi sono soltanto elogi anche se preoccupa il forfè di Di Michele che nel campionato prima era stato forse il giocatore più determinante assieme a Pizzarro per portare l'Udinese ai play-off di Champions League. Era l'Udinese che, pilotata da Luciano Spalletti, era riuscita ad agguantare la quarta posizione. Grazie a tutti.